il picolare mattutino degli uccelli sembrava insipido a françoise ogni parola delle donne la faceva trasalire infastidita da ogni loro passo se ne chiedeva la direzione il fatto è che avevamo cambiato casa non che i domestici si dessero meno da fare al sesto piano della nostra vecchia dimora ma quelli li conosceva i loro andirivieni le erano divenuti familiari ora perfino al silenzio prestava un'attenzione dolorosa e poiché il nostro nuovo quartiere appariva tanto calmo quanto era rumoroso il viale sul quale affacciava la casa di prima la canzone distinta anche da lontano quando è debole come un motivo d'orchestra non passante faceva venire le lacrime agli occhi di françoise in esilio sicché se avevo riso di lei quando disperata di dover lasciare un casamento dove si era così ben stimati da tutti aveva fatto i bagagli piangendo secondo il rito di combrè e dichiarando superiore a tutte le case possibili quella che era stata la nostra io che assimilavo così difficilmente le cose nuove quanto facilmente abbandonavo le vecchie mi avvicinai in compenso alla nostra vecchia governante quando vedi che l'installazione di una casa dove lei non aveva ancora ricevuto dal portiere che ancora non ci conosceva quei segni di considerazione indispensabili alla sua buona nutrizione morale l'aveva gettata in uno stato prossimo al deperimento lei sola poteva capirmi non ci sarebbe certo riuscito quel suo giovane aiutante per lui che era così poco di combrè traslocare stabilirsi in un altro quartiere era come prendersi una vacanza in cui la novità delle cose era riposante quanto un viaggio credeva ad essere in campagna e un raffreddore di testa gli diede come un colpo d'aria preso in treno per un finestrino chiuso male impressione deliziosa di aver visto uno spicchio di mondo ad ogni starnuto si rallegrava d'aver trovato un posto tanto chic avendo sempre desiderato padroni che viaggiassero molto così senza curarmi di lui andai dritto da françoise da che avevo riso delle sue lacrime a una partenza che mi aveva lasciato indifferente lei si mostrò gelida dinanzi alla mia tristezza perché la condivideva l'egoismo dei nervosi cresce di pari passo con la loro pretesa sensibilità non possono sopportare da parte di altri esibizione di malessere cui quando si tratta di loro stessi concedono il massimo dell'attenzione l'assoise non passava sotto silenzio nemmeno il più leggero tra quelli che provava se soffrivo io voltavo la testa perché non avessi il piacere di vedere la mia sofferenza compatita anzi neppure notata così fece allorché vogli parlarle della nostra nuova casa dal resto dovendo in capo a due giorni cercare indumenti dimenticati in quella che avevamo appena lasciata mentre io avevo ancora a seguito del trasloco un po di temperatura e simile a un boa che abbia appena egogliato un bue mi sentivo penosamente ingombro a causa di una lunga cassa panca che la mia vista doveva ancora digerire françoise con l'infedeltà delle donne tornò dicendo che nel nostro vecchio viale aveva creduto di soffocare che nell'andarsi sarà trovata tutta spaisata che mai aveva visto scale tanto scomode che non sarebbe tornata ad abitare laggiù nemmeno per un impero o le avessero offerto dei milioni ipotesi gratuite e che tutto vale a dire quanto concerneva la cucina ai corridoi era assai più ben messo nella nostra nuova casa ora è tempo di dire che questa ed eravamo venuti ad abitarsi perché la nonna non stava granché bene ragione che ci eravamo guardati dal farli conoscere e aveva bisogno l'aria più pura era un appartamento annesso al palazzo dei garman nell'età in cui nomi offrendoci l'immagine dell'inconoscibile che abbiamo riversato in essi nel momento stesso in cui designano anche per noi un luogo reale si obbligano con ciò a identificare l'uno con l'altro al punto che partiamo per cercare in una città un'anima che essa non può contenere ma che non abbiamo più il potere di espellere dal suo nome non conferiscono un'individualità solo alle città e ai fiumi come fanno le pitture allegoriche non scleziano di sfumature e popolano di meraviglioso soltanto l'universo fisico ma anche l'universo sociale allora ogni castello ogni dimora o palazzo famoso alla sua signora o la sua fata come le foreste i loro geni e le loro divinità le acque talvolta nascosta in fondo al suo nome la fata si trasforma secondo il percorso della nostra immaginazione che la alimenta così l'atmosfera in cui la signora di garman esisteva in me dopo essere stata per anni solo il riflesso ad un vetro di lanterna masica o di una vetrata di chiesa cominciava a spegnere i suoi colori allorché fantasticherie tutte diverse tornarono ad impregnarla della schiumosa umidità dei torrenti tuttavia la fata deperisce se ci avviciniamo alla persona reale cui il suo nome corrisponde poiché quella persona il nome comincia allora a rifletterla ed essa non ha in sé niente della fata la fata può rinascere se ci allontaniamo dalla persona ma se restiamo presso di lei la fata muore definitivamente e con lei il nome come quella famiglia di lusignano che doveva estinguersi nel giorno in cui sarebbe scomparsa la fata melugina allora il nome sotto i cui successivi strati di colore potremmo finire col ritrovare all'origine il bello ritratto di una strana mai conosciuta altro non è che la semplice carta fotografica di identità cui ci riferiamo per sapere se conosciamo se dobbiamo o no salutare una persona che passa ma se la sensazione di un anno trascorso come quegli strumenti musicali meccanici che conservano il suono e lo stile dei vari artisti che li suonano permette alla nostra memoria di farci udire quel nome col timbro particolare che aveva allora per il nostro orecchio in quel nome in apparenza immutato sentiamo la distanza che separa l'una dall'altra le fantasticherie che per noi significano successivamente quelle sue stesse sillabe per un istante dal riascoltato cinquettio che esso aveva in quella lontana primavera noi possiamo estrarre come dai tubetti di cui ci serviamo per dipingere la sfumatura giusta dimenticata misteriosa e fresca dei giorni che avevamo creduto di ricordare quando come i pittori mediocri all'interno del nostro passato steso sulla medesima tela davamo i toni convenzionali e sempre uguali della memoria volontaria ora al contrario ciascuno dei momenti che lo composero impiegava per una creazione originale in un'armonia unica i colori di allora che non conosciamo più e che per esempio mi infondono ancora un'improvvisa meraviglia se per un caso qualsiasi il nome di guermain avendo ripreso per un istante dopo tanti anni il suono così differente da quello di oggi che aveva per me il giorno del matrimonio della signorina per sepì mi restituisce quel color malva così dolce troppo brillante troppo nuovo che dava riflessi di velluto alla sciarpa rigonfia della giovane duchessa e come una pervinca impossibile accogliersi e rifiorita ai suoi occhi irradiati da un sorriso azzurro e in nome di guermain di allora somiglia anche a uno di quei palloncini gonfiati con ossigeno con qualche altro gas quando giungo a bucarlo e a farne uscire il contenuto io respiro l'aria di combri di quell'anno di quel giorno vista un profumo di biancospini portato dal vento che dall'angolo della piazza veniva per annunciare la pioggia che di volta in volta faceva scomparire il sole lasciava che si spandesse sul tappeto di lana rossa della sagrestia rivestendolo di un incarnato brillante quasi roseo di teranio e di quella dolcezza per così dire pagneriana e l'allegria che conferisce tanta nobiltà ad un giorno di festa ma anche al di fuori di rari minuti come questi in cui bruscamente sentiamo l'entità originale trasalire e riprendere la sua forma e la sua cesellatura insieme alle sillabe morte di oggi se nel turbine vertiginoso della vita quotidiana dove ad essi non rimane che un uso puramente pratico i nomi hanno perduto ogni colore come una trottola prismatica che gira troppo rapida e ci appare grigia in compenso quando nell'immaginazione riflettiamo cerchiamo per andare al passato di rallentare di sospendere il moto perpetuo in cui siamo trascinati a poco a poco vediamo riapparire giusto apposti ma interamente distinti gli uni dagli altri i colori sotto cui nel corso della nostra esistenza ci si presentò in successione uno stesso nome certo quale forma si stagliasse ai miei occhi in quel nome di gourmand quando la mia nutrice che certo ignorava quanto io oggi in onore di chi era stata composta mi cullava con quella vecchia canzone gloria alla marchesa di gourmand o quando qualche anno più tardi il vecchio maresciallo di gourmand col mando d'orgoglio la mia bambinaia si fermava agli champelise per dire che bel bambino e da una bomboniera tascabile traeva un cioccolatino questo non lo so quegli anni della mia prima infanzia non sono più in me mi sono esterni non posso saperne nulla se non come perciò che ha avuto luogo prima della mia nascita dai racconti altrui ma più tardi trovo successivamente per il tempo che durò in me quello stesso nome sette o d'otto figure differenti le prime erano le più belle a poco a poco il mio sogno costretto dalla realtà ad abbandonare una posizione insostenibile si ritirava sempre più al di qua finché non fu obbligato a indietreggiare ancora e contemporaneamente alla signora di gourmand cambiava dimora scaturita anch'essa da quel nome che fecondava di anno in anno questa o quella parola udita che modificava le mie fantasticherie quella dimora le rispecchiava nelle sue stesse pietre divenute riflettenti come la superficie di una nube o di un lago un torrione senza spessore che era solo una striscia di luce arancio e dall'alto del quale il signore e la sua dama decidevano della vita e della morte dei loro vassalli aveva lasciato il posto al termine di quella parte di gourmand dove per tanti bei pomeriggi seguivo coi miei genitori il corso della vivante a quella terra velata di torrenti dove la duchessa insegnava a pescare le trote e a conoscere il nome dei fiori dai grappoli violetti e rossastri che decoravano i muretti degli orti circostanti poi c'era stata la terra ereditaria il poetico dominio in cui quella razza altera dei gourmand come una torre biondeggiante e fiorita che attraversa le epoche si innalzava già sulla franza quando il cielo era ancora vuoto là dove più tardi dovevano sorgere la notre dame parigi e quella di chartre quando in cima alla collina di leon la nave della sua cattedrale non sarà ancora posata come l'arca del diluvio in cima al monte ararat piena di patriarchi e di giusti ansiosamente affacciati alle finestre per vedere se la collera di dio si fosse placata portando con sé le specie vegetali che si moltiplicheranno poi sulla terra traboccante di animali che fuggono via perfino dalle torri dove dei buoi passeggiando placidamente sui tetti guardano dall'alto le pianure della champagne quando il viandante che lasciava bouvet sul finire del giorno non vedeva ancora al suo seguito lungo le curve piegate sullo schermo dorato del tramonto le ali nere e ramificate della cattedrale era germà come la cornice di un romanzo un paesaggio immaginario che faticavo a rappresentarmi e tanto più desideravo scoprire rinchiuso in mezza terre e strade reali che d'improvviso si sarebbero impregnati di dettagli araldici a due leghe da una stazione ricordavo i nomi delle località vicine come fossero situate ai piedi del parnaso dell'elicona ed esse mi apparivano preziose come le condizioni materiali sotto le quali nella scienza topografica si produce un fenomeno misterioso rivedevo gli stemmi dipinti nei basamenti delle vetrate di combrè e di cui si erano riempiti secolo dopo secolo i quartieri di tutte le signorie che tramite matrimonio acquisizioni che l'illustre casato aveva fatto accorrere a sé dalla germania dall'italia e dalla francia terra immense del nord città potenti del mezzogiorno venute a congiungersi e a comporsi in germain e perdendo la loro materialità a iscrivere allegoricamente il loro torrione smaltato o il castello argentato in campo azzurro avevo sentito parlare dei celebri razzi di germain e rivedevo medievali e bluastri e quanto grossolani stagliarsi come una nube sul nome amaranto e leggendario ai piedi dell'antica foresta dove tanto spesso cacciò re childeberto e della sottile profondità misteriosa di quelle terre di quella lontananza di secoli mi sembrava di poter penetrare i segreti quasi come in un viaggio solo che avesse avvicinato per un istante a parigi la signora di germain sovrana del luogo e dama del lago come se il suo viso le sue parole avessero dovuto possedere l'incanto locale delle foreste e delle rive e le stesse secolari particolarità custodite nelle vecchie carte dei suoi archivi ma allora avevo conosciuto san lup mi aveva informato che il castello si chiamò di germain solo a partire dal diciottesimo secolo allorché la sua famiglia lo aveva acquistato questa aveva risieduto fin da allora negli intorni e suo titolo non proveniva dalla regione il villaggio di germain aveva preso il nome dal castello verso il quale era stato costruito e perché non se ne distruggesse la prospettiva una servitù edilizia rimasta in vigore regolava il tracciato delle strade e limitava l'altezza delle case quanto agli arazzi erano di boucher comprati nel diciannovesimo secolo da un germain che ne era appassionato ed erano disposti accanto a mediocli quadri di cazza che aveva dipinto lui stesso in un bruttissimo salone da peggiato di pelluto rosso e di felpa con quelle rivelazioni san lup aveva introdotto nel castello degli elementi estranei al nome di germain che non mi permisero più di estrarre unicamente dalla sonorità delle sillabe la materia della costruzione allora in fondo a quel nome sarà cancellato il castello riflesso nel suo lago e attorno alla signora di germain ma era apparso come sua dimora il palazzo di parigi il palazzo di germain limpido come il suo nome perché nessun oggetto materiale opaco giungeva a interromperne e ad appannarne la trasparenza e come la chiesa non significa solo il tempio ma anche l'insieme dei fedeli quel palazzo di germain comprendeva tutti coloro che condividevano la vita della duchessa anche se quegli intimi che non avevo mai visto erano per me solo nomi celebri e poetici e conoscendo unicamente persone che a loro volta non erano che dei nomi non facevano che ingrandire e proteggere il mistero della duchessa prendendo attorno a lei un vasto alone che via via sfumava